e quindi oggi presento la newsletter emozione station dove racconteremo per i colleghi parrucchieri e perso e quello che ci può essere dietro un allunghamento dei capelli allora è uscito il primo numero eccolo qui perfetto dove ci sono vari articoli dentro e un po di spiegazioni della formazione che vado a realizzare qui a tor bergata in roma però questo poi ne parleremo più avanti però quello che è interessante che il mondo è cambiato si comunica in un modo diverso e quindi c'è questo gruppo privato che ho realizzato un po di anni fa però adesso ne sto cercando di accendere accendere questi motori per per sempre per tutti quelli appassionati allungamenti che vedi e quindi sul la nuova newsletter sulla pagina centrale eccolo qua dove sta vediamo un po ecco c'è il barcode che gli fai uno scatto e parrucchiere e arriverai alla pagina di facebook di questo gruppo privato per iscriversi sono solo tre semplici domande se sei un parrucchiere di città stai e il nome del negozio allora che che benefici possiamo trovare dentro il gruppo estensore e allora andiamo a vederlo insieme ecco qui questa è la pagina di facebook dove noi abbiamo questo gruppo tante tante cose tante notizie eh quanti modi come pubblicizzarsi eh nel negozio e anche eh aiutare eh quei compleghi che eh non sono tanto ferrati sulla comunicazione e diventare leader nel loro territorio eh dopo anni di esperienza eh ho realizzato qualcosa che possa aiutare a livello tangibile eh diventare leader AI Station nel tuo territorio